federico fashion style è una delle personalità televisive emerse nell'ultimo periodo il parrucchiere di anzio che ha debuttato in tv con il salone delle meraviglie su real time si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando a ballando con le stelle 16 e alla pupa il secchione show come a quanto pare però la sua carriera televisiva si troverebbe in un punto fermo secondo le ultime voci l'air stylist non parteciperà al grande fratello vip 7 il prossimo autunno come anticipato e non tornerà in tv nemmeno con la seconda stagione del suo beauty bus su dis federico fashion style starà lontano dal piccolo schermo per qualche tempo pare di sì secondo the people gossip per il 32enne si sono improvvisamente chiuse le porte della televisione era con un piede nella casa ma secondo gli ultimi rumor l'air stylist si troverebbe presto senza una trasmissione recita lapidario un post di oggi 9 giugno 2022 del portale a quanto pare quindi come alcune voci avevano anticipato federico era davvero vicino a diventare un concorrente del grande fratello vip 7 qualcosa però sarebbe andato storto non si capisce se e perché sia sfumata la trattativa ovviamente bisogna prendere tutto con le pinze in quanto al momento non ci sono notizie ufficiali a riguardo ma solo rumors lo stesso diretto interessato non ha ancora confermato o smentito i gossip the people gossip mette anche in dubbio la presenza nel palinsesto televisivo della seconda stagione di beauty bus programma itinerante di federico fashion style che ha debuttato nel 2021 anche in questo caso ancora nulla resta da capire perché federico fashion style starebbe passando da prezzemolino della tv a grande assente forse come molti ipotizzano la sua eccessiva esposizione in tv avvenuta tutta in un colpo non è stata particolarmente gradita da pubblico emittenti dal debutto del salone delle meraviglie il 32enne è stato spesso ospite di barbara d'urso nel salotto di live non è la d'urso barbarella l'ha poi voluto alla pupa e il secchione show in qualità di opinionista sembra quindi che il nome di federico fashion style possa essere definitivamente cancellato dalla lista dei papabili concorrenti del grande fratello vip 7 per ora in pole position per la permanenza nella casa di cinecittà il prossimo autunno ci sono antonino spinalbese gigliola cinquetti patrizia groppelli asia gianese max felicitas grazie a tutti 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 grazie a tutti